Genova. Arrivano buone notizie dal quartier generale del Genoa. La padula è più vicino al rientro, e sta sfruttando la pausa per mettersi alle spalle l'infortunio al ginocchio. Oggi l'attaccante torinese, colpo di mercato della sessione estiva del club di Preziosi, ha effettuato giri di campo con il cardiofrequenzimetro e svolto i primi esercizi con il pallone, seguito dai dottori Gatto, Stellatelli e dal rieducatore Barbero. Seduta programmata differenziata per l'Axalt e Veloso, entrambi sottoposti a un programma di scarico in piscina, che proseguirà nei prossimi giorni.